In questa settimana abbiamo effettuato la presentazione del nuovo corso per diventare volontari e ci sono stati numerosissimi iscritti, questo ci rende molto felici anche perché in una situazione di pandemia che stiamo vivendo in questo periodo non ce l'aspettavamo. Ci sono ancora pochissimi posti a disposizione e potrete iscrivervi, che fosse interessato, sul nostro sito www.crimontelabate.it troverete un pulsante con scritto diventa volontario e cliccando lì potrete registrarvi. Per quanto riguarda la situazione della pandemia siamo nuovamente allerta, lo siamo sempre rimasti in realtà dal periodo di inizio pandemia di marzo, ma siamo di nuovo ad altissimi regimi. Quindi quello che chiediamo a tutti è una massima collaborazione, questa massima collaborazione come la si può effettuare? La si può effettuare rispettando le normative il più possibile. Indossate sempre la mascherina come ci viene indicato, nei luoghi, nei modi in cui ci viene indicato, lavatevi spesso le mani, rispettate il distanziamento e uscite se ce n'è necessità, ovviamente per lavoro, per situazioni d'urgenza. Per quanto riguarda invece le cose che possono fare i volontari che si iscriveranno a questo corso base, quali sono? I nuovi volontari, una volta superato l'esame d'ingresso, potranno essere da subito operativi e molto utili a tutta la popolazione. Servizi come quello della consegna farmaci per chi ne ha bisogno, le nuove richieste sono già partite di nuovo in questo periodo, come è successo all'inizio della pandemia, la consegna della spesa. Ci sono tanti servizi da svolgere in totale sicurezza, servizi garantiti anti-Covid, che i nuovi volontari potranno effettuare fin da subito. La presentazione del corso di questa settimana è avvenuta online e in base alla curva epidemiologica e alle varie disposizioni ministeriali che usciranno, valuteremo di volta in volta come gestire poi l'intero calendario del corso, se in presenza o online. Ovviamente la vostra salute per noi è prioritaria e quindi il tutto verrà gestito nella massima sicurezza. Per quanto riguarda le corse abbiamo detto che inizialmente è appunto online, immaginando che comunque è un lavoro che comporta anche tanta pratica, nella speranza poi pandemia permettendo che possa anche essere magari una minima parte svolta in presenza. Assolutamente, la nostra speranza è proprio questa, perché noi ovviamente non ci possiamo discostare da quelle che sono le normative, però se ce ne sarà l'opportunità ci piacerebbe molto svolgere alcune lezioni anche in presenza, soprattutto perché per noi, che abbiamo bisogno di vedere proprio in faccia la gente con cui lavoriamo, perché questo è un lavoro che richiede una grandissima serietà e una grandissima preparazione. E per loro che comunque avranno bisogno anche di una parte pratica che è difficilmente gestibile online.